Nelle ultime ore la popolare conduttrice Victoria Cabello è stata sottoposta a un intervento chirurgico al viso a causa di un problema alla mandibola. Nonostante la situazione, ha mantenuto il suo spirito ironico e ha condiviso un video divertente direttamente dalla sala operatoria. Victoria Cabello ha spiegato di aver subito l'intervento a causa di una vena intasata nel massettere, ma ha rassicurato i suoi fan che non si trattava di nulla di grave. La conduttrice ha sempre dimostrato di saper affrontare le situazioni con leggerezza, e anche questa volta non è stata da meno, diventando subito virale sui social. Nel video condiviso su Instagram, Victoria Cabello ha mostrato alcuni momenti prima e dopo l'intervento, tra cui una divertente gag riguardante il nome dell'anestesista che si chiamava Jess. La conduttrice ha commentato, ironicamente, che vale tutto e ha scherzato sul fatto che se il miracolo non lo faceva Jess, si sarebbe arrabbiata. Anche in sala operatoria, Victoria Cabello ha mantenuto il suo umorismo, scherzando con l'infermiera sul fatto che se le cose fossero andate male, sarebbe stata rianimata. Alla fine del video, la conduttrice ha mostrato la mandibola leggermente gonfia post intervento, ma ha confermato che tutto era andato per il meglio. Victoria Cabello ha dimostrato ancora una volta la sua forza d'animo e il suo spirito positivo.